La vostra guida è presente e vi aiuta a tornare nel vostro corpo, in modo che possiate mantenere il vostro stato di corpo leggero. Ispirate attraverso i reni e poi ispirate verso il basso, nella terra. Ogni espulsione di respiro vi porta più in profondità. Respirando in questo modo, la vostra coscienza passa attraverso diversi tipi e diversi strati di materiali e di terreni, mentre discendete sempre più in profondità. Con la vostra quinta ispirazione raggiungete una vena d'oro. Continuate a respirare in questo modo, mentre le vostre ispirazioni vi portano oltre, all'interno di questa vena, che è molto grande. Presto, tutta la vostra coscienza è circondata d'oro. Mentre respirate potete odorare il metallo di questo materiale brillante, giallo e risplendente. Siete in grado di distinguerlo dal vostro corpo con i vostri sensi. Identificatelo e rendetevi conto che la sensazione di questo oro è molto diversa dalla sensazione che vi provoca la terra e il terreno. Sembra un metallo, sembra giallo, sembra duro. Conduce l'elettricità e potete sentire delle correnti insolite che attraversano il vostro corpo. Inspirate la sensazione dell'oro finché tutto il vostro corpo ne è pieno, in modo che riuscite a portare all'interno la stessa impressione che percepite all'esterno. Attraverso il vostro corpo, osservate le minuscoli correnti elettriche che tutto quest'oro conduce. Quando guardate il più da vicino l'oro, che si trova davanti ai vostri occhi, siete in grado di percepirlo in un modo in cui prima non riuscivate. Non appare o sembra più solido. Potete vedere le sue strutture molecolari metalliche. Mentre guardate questi basilari componenti strutturali, potete vedere che sono formati da componenti più piccoli. Potete vedere le correnti di energia e le particelle che corrono da una parte all'altra della struttura, in un modo che è intenzionale piuttosto che casuale. Potete percepire questi messaggi elettrici dall'interno sia dall'esterno del vostro corpo e diventate consapevoli delle comunicazioni interne di una particella e di una struttura con le altre. Mentre ampiate la vostra visuale, l'oro appare come una città enorme, illuminata di notte, con piccole luci che corrono lontano in ogni direzione, fino a dove arriva il vostro sguardo. Esistono un'intelligenza e uno scopo globale che governano tutta questa energia e tutte queste luci. Mentre respirate in modo più profondo, diventate consapevoli di una sostanza d'oro più solida tutti intorno a voi e dentro di voi. Nel profondo del vostro essere percepite una sensazione che ora conoscete e quindi siete in grado di parlare con lo spirito del materiale nella cui casa vi trovate come ospite. Ascoltate ora la spiegazione dell'oro minerale. Ascoltate ora la spiegazione dell'oro. Ascoltate ora la spiegazione dell'oro. Avete poi anche l'occasione di porre alcune domande allo spirito dell'oro. Accertate i biddinghi. Alla spiegazione dell'oro. Grazie a tutti. 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 Aprite gli occhi. Grazie a tutti.